Non ci posso credere, non ci posso credere contro ogni pronostico, il Villarreal elimina il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League e volano in semifinale, il sogno spagnolo c'ha questo decisivo e fa il gol più importante della sua carriera. Ha eliminato il Bayern Monaco al Monaco di Baviera che non riesce a trovare una vittoria con due gol di scarto e quando sembrava ormai fatta la strada dei supplementari la beffa è arrivata, quindi la semifinale sarà Villarreal contro molto probabilmente il Liverpool che dovrà affrontarsi domani contro il Benfica. Ma ora dopo che hanno eliminato il Bayern Monaco può succedere realmente di tutto, io non dico che possano vincere la Champions League perché parliamoci chiaro, Liverpool, Manchester City per dire lo stesso atletico che una delle due esce, il Chelsea, sono molto superiori a livello di organico ma hanno eliminato un'altra squadra forte come il Bayern Monaco. E io non ci posso credere perché in realtà ha giocato solo la squadra tedesca, hanno fatto più una partita di contenimento, quindi del Villarreal dove si sono allenati ben in fase dimensiva soprattutto nel primo tempo ma comunque hanno continuato dello stesso regime nel secondo. Nel primo tempo si gioca nella metà campo spagnola, il Bayern prova con molta qualità soprattutto quella di Sané che oggi veramente ha rotto in due la partita dalla fascia, è stato incontenibile, tantissimi traversori dentro molto pericolosi ma Rulli intanto inizialmente è stato perfetto oggi nelle uscite ed ha aiutato veramente tanto la difesa dove c'è il Viola che è molto esperto. E quindi questa squadra ha fatto l'impresa più totale eliminando il Bayern di Monaco. Comunque lo stesso Pamecano della scuola tedesca è stato monumentale perché ha chiuso ogni ripartenza possibile e immaginabile, anche fisicamente parlando è stato impeccabile ma poi la ripartenza letale è stata incredibile perché la sblocca prima il Bayern al cinquantesimo con Lewandowski. Diciamo che il Villarreal è orientato male, un approccio del secondo tempo che è sicuramente brutale rispetto a quello del primo, non ha assolutamente continuato con lo stesso match. Il Villarreal quindi subisce gol, un errore clamoroso in fase difensiva, recupera Coman, palla a centrocampo su Pareko che serve Müller che poi taglia per Lewandowski che becca l'angolino e fa il gol dell'1-0 per il Bayern Monaco. L'entusiasmo si accende, vanno le stelle e il Bayern è entrato più convinto in campo mentre il Villarreal con molta leggerezza ma poi la squadra di Emery si è riuscita a riprendere anche se poi viene graziata da Müller che si divora il gol del 2-0. Il Villarreal su cross dentro del solito Sané poi di testa in tuffo davanti alla porta solo soletto la spara fuori e diciamo che era un'occasione da non buttare. Crea tantissimo il Bayern Monaco, supa tanto anche lo stesso ma poi incredibile la beffa perché Ciacuese nella ripartenza micidiale sul colpo di testa lì in fuori di Albiol. La qualità nell'uscire, la qualità nell'azione in sé e la palla che arriva Ciacuese che scarica in porta e fa il gol del 2-1 e questa è un'impresa che verrà ricordata per i prossimi anni di Champions League perché il Villarreal può davvero credere a questa competizione. Io non dico che possa vincere la Champions League, lo ribadisco perché comunque le squadre che dovrà affrontare nel semifinale e nel miracolo in finale sono troppo superiori ma se andiamo a vedere lo scorso anno hanno vinto l'Europa League, la stagione League ormai è andata penso settimo posto e non sarà facile recuperare punti su quelle sopra quindi punteranno tutto sulla Champions anche se giocheranno con squadre veramente troppo forti ma lo stesso era il Bayern Monaco che però è stato eliminato quindi tutto può succedere fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, non basta Lewandowski, il Bayern è fuori dalla Champions anche se è un progetto importante con tanti giovani portati a casa, non diciamo con i campioni clamorosi con tutti i soldi spesi però piuttosto con una squadra che viene rinforzata ma poi esce da questa Champions Ciao ed è stato del tutto clamoroso Ciao